Ciao, sono Dino Zanolini, cuore e anima dello studio Wedding Pro 94. Abbiamo sede a Bussero, in provincia di Milano, e da alcuni anni un ufficio anche in provincia di Verona, a San Giovanni Lupatotto, in piazza Umberto I, proprio nel cuore del paese. La passione per la fotografia e il piacere di stare in mezzo alla gente mi hanno portato naturalmente verso la fotografia di matrimonio, un genere che amo interpretare attraverso la vostra spontaneità, cercando di essere una guida complice in una giornata in cui ognuno vorrebbe vivere al massimo, nell'imbarazzo però di non sapere cosa fare. Ai risposi chiedo solo tre cose, fiducia nell'operato, spontaneità perché non viene chiesto nient'altro che essere se stessi e ultima, ma non per importanza, complicità perché a fare le foto siamo in due, io e voi. Se non siamo complici in questo gioco, difficilmente gli scatti potranno essere meravigliosi. Se stai cercando il fotografo che interpreti la tua spontaneità per darti un prodotto che ti assomigli divertendoti, chiamami e scarica il coupon gratuito che trovi sul sito wellinpro94.com. Ti darà diritto, se prenoterai da me il tuo servizio, a un ulteriore servizio gratuito di due ore da poter usare come engagement prematrimoniale o per il battesimo del tuo primo figlio. Stai a te puoi scegliere cosa preferisci. Ti aspetto, vieni a trovarmi e scarica gratuitamente. Ciao!